Giovanni Finotto, direttore Master Steps. Il Master in Scienze Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza è ormai alla sua undicesima edizione. È realizzato in collaborazione con INEI, direzione regionale Veneto, con il Corpo Nazionale di Vigilio e Fuoco, con il Sistema Pubblico della Prevenzione e con i Comitati Bilaterali della Sicurezza dell'Artigianato Veneto. 30 studenti, 50 docenti, 4 coordinatori e una rete di imprese e sostenitori che lavorano in collaborazione a vantaggio di tutti gli iscritti. È un percorso unico di elevata specializzazione per chi vuole entrare nell'ambito delle tematiche della salute e della sicurezza con un alto profilo tecnico-scientifico. I nostri studenti oggi sono all'interno di imprese e società che si occupano di prevenzione con dei profili particolarmente elevati. Alla conclusione delle attività didattiche potrai ottenere, oltre al titolo accademico, anche il riconoscimento del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutti i settori di attività lavorativa, il riconoscimento della qualifica di formatore per la salute e la sicurezza in tutte le aree tematiche, a prescindere dalla laurea di origine e di provenienza, ed infine anche l'attestazione di idoneità tecnica antincendio in attività a rischio incendio elevato. Ma soprattutto potremmo contribuire insieme per un'attività fondamentale, quella legata alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un'attività con uno spiccato valore sociale. Per maggiori informazioni potete naturalmente contattarmi direttamente oppure consultare il sito di Ca' Fosca di Cianna Scuola.